Castel Savoia È il meraviglioso castello da favola fatto costruire in Valle d'Aosta fra il 1899 e il 1904 dalla regina Margherita di Savoia, la prima regina d'Italia. È una grande villa a tre piani in stile eclettico, caratterizzata dalle cinque torri neogotiche, che gode di una meravigliosa vista sul Monte Rosa. Fu Margherita a commissionarne lo stile e presenziò attivamente ai lavori. La posa della prima pietra avvenne il 24 agosto del 1899. Alla presenza di suo marito, Re Umberto I. Ma fu ucciso l'anno seguente e non ebbe modo di vedere lavori completati. Quando la villa fu pronta, ormai vedova, Margherita vi trascorse lunghi periodi di villeggiatura, ospitando anche personalità molto importanti, come il poeta Giosuè Carducci.